Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del seno tuo Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del seno tuo Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Grazie. 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 Ti trovo bene, nonostante tutto. Fa male? Ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.